aiuto ho deciso di farmi un botto di nemici con questo video perché andiamo a parlare di market timing cioè nel mondo della finanza del stock picking e dell'investimento in azioni la tendenza a cercare il giusto prezzo a cercare di comprare a sconto quindi non nel momento stesso in cui si fa una ricerca ma l'altro da sconto chi è che non vuole comprare voglio dire se questo pennarello di listino costa 3 euro se lo trovo un euro faccio un affare giusto bene il market timing semplicemente dice aspetta e cerchiamo di comprare a sconto ok in questo video voglio spiegare perché il market timing non funziona ho preparato un sacco di slide sarà un po lunga e vi invito ad aprire bene le orecchie e se non siete d'accordo di commentare e ovviamente portare i dati dalla vostra perché ovviamente non dico mai niente a caso cerco di documentarmi poi per carità siamo tutti fallibili ma comunque passiamo alle presentazioni buongiorno a tutti i signori in questo nuovo video io sono buongiorno benvenuti al massimo in questo nuovo video io sono francesco buzzi trader investitore founder di buzzway.it un po di tensione per il video che sto per fare si sente attenzione che c'è la promo febbra azionaria che scade il 9 febbraio e contempla i miei due corsi sull'investimento investimenti in azioni per lupi e scommesso investimenti in azioni ad alto potenziale due libri fisici che ti arrivano a casa più il circolo dei lupi che è il canale telegram in cui pubblico i report in cui parliamo cioè 44 e tutta questa offerta comprende 44 report di aziende quindi due corsi due libri in un circolo e 44 aziende a tipo il 60 per cento di sconto solo fino al 9 febbraio mi raccomando se sei un investitore e vuoi dare il busto alle tue performance e la tua modalità di investimento fa per te febbrazionaria.com o numero vero 800 475 300 direi di iniziare subito dopo la sigla Cos'è il market timing? L'ho già spiegato e ci siamo capiti nel momento in cui voglio comprare un'azienda a sconto non sempre quando faccio un'analisi troverò il prezzo di quell'azienda al prezzo giusto ok quindi sottovalutata è un principio che nasce dal value investing da benjamin ground a warren buffett eccetera ma in realtà che tutti applicano perché non tutti comprano così diciamo così a caso nel momento stesso in cui fanno un'azienda vogliono sempre comprare a sconto e fanno analisi appunto su come cercare di comprare al meglio ci sono due problemi sul market timing il primo è emozionale di gestione ah hai detto emozionale spengo il video no sto parlando di economia comportamentale una branca della scienza fondamentale studiata con centinaia migliaia di esperimenti e che ha avuto diciamo così il picco divulgativo nel libro pensieri lenti veloci sostanzialmente dice che quando abbiamo a che fare con decisioni interpretazione dei dati statistica soldi noi esseri umani inconsciamente facciamo schifo quindi quando cerchiamo di comprare a sconto di entrare al momento giusto di fare compra al minimo non comprare al massimo fai una serie di cose la maggior parte delle volte sbagliamo e questa è una cosa molto importante da capire perché dal mio punto di vista e in realtà secondo tutti i premi nobel di economia secondo kahneman secondo morgan hauser secondo danie dan arieli e richard thaler e tutte tutte le persone che hanno studiato per decenni l'economia comportamentale il 90 per cento dei nostri risultati dipende dalla mente non dalla strategia quindi sono convinto che sia importantissimo ma c'è anche la statistica ebbene sia anche la statistica che dice che non conviene aspettare a comprare un'azione ma io direi di fermarci qua con le chiacchiere e andiamo con le slide market timing perché no la statistica dice chiaramente che conviene essere full invested cioè in questo studio dei se non sbaglio jp morgan sono stati investiti 10 mila euro tra gennaio del 99 e dicembre del 2018 quindi sono 21 anni pieni le performance sono state del 5,62 per cento ok all'anno se si è stati sempre investiti quindi dalla crisi della dot com c'è stato dentro anche la bolla finanziaria e il meno 20 per cento registrato da ottobre novembre del 2018 bene se fossero stati sempre investiti questi 10 mila dollari si sarebbero trasformati in quasi 30 mila dollari quindi avrebbero fatto il 5 per cento e mezzo medio annuo se a questa performance si fossero tolti i 10 giorni migliori questa performance sarebbe stata del 5,62 allora cosa vuol dire i 10 giorni migliori vuol dire che prende la calcolatrice ok in 21 anni abbiamo 21 21 anni per facciamo 250 giorni di borsa stiamo molto molto larghi 250 giorni di borsa sono 5250 giorni se a 5250 giorni togli solo i 10 giorni migliori solo i 10 giorni migliori la performance di mezza anzi fa peggio di metà della performance passa da 5,62 al 2 per cento medio annuo quindi al posto di generare 30 mila euro a partire da 10 mila euro meno generi 15 mila quindi perdendo solo 10 giorni rinunci a 15 mila dollari ok se perdi i 20 giorni migliori addirittura la performance è negativa quindi su 5.250 giorni togli solo 20 giorni quindi 5.230 giorni su 5.250 giorni ok la performance addirittura è negativa ok ha però francesco questo è una analisi sull'sp 500 non sulle singole azioni certo usiamo l'sp 500 come media anzi è molto più statisticamente affidabile no al posto di prendere delle aziende di fare un'analisi in 2 3 4 5 casi prendiamo la media così vediamo che sì ci saranno aziende che in media guadagnano di più in media guadagnano di meno ma il concetto dell'estare sempre investito è efficace come dice warren buffett appunto il giorno migliore per iniziare a investire è ieri perché perché le aziende che compongono l'sp 500 fanno la maggiore performance lungo tutto l'arco temporale ok o meglio il top delle performance le fanno in giorni specifici se tu ti perdi quei giorni specifici stanno aspettando facendo e disfando perdi la performance ok questa è un'analisi fatta sull'sp 500 da gennaio del 99 al 2000 a dicembre del 2018 quindi su 5250 giorni perdendone solo 10 20 o 30 i migliori assurdo si dimezza la performance addirittura rischi di andare in negativo praticamente ok abbiamo altri studi però abbiamo questo studio qua a sinistra dal gennaio del 95 a dicembre del 2014 shiftiamo un po ok abbiamo preso 20 anni adesso ne prendiamo altri 20 shiftati 10 mila dollari diventano 65 mila dollari con un ritorno del 9,85 per cento se ti perdi i 10 giorni migliori fai la metà dei soldi fai 32 mila dollari ok facendo un ritorno del 6 per cento se perdi i 20 giorni migliori fai un ritorno del 3 se perdi i 30 giorni migliori fai un ritorno dell'1 eccetera 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 ok quindi qua abbiamo anche la crescita pre dot com molto più pimpante non abbiamo il 2018 sono una performance migliore però basta perdere solo 10 giorni e si fa una performance disastrosa andiamo indietro nel tempo abbiamo dal 1980 al 1993 3541 giorni di trading a un ritorno del 15 per cento se perdi i 10 giorni migliori a un ritorno del 12 non è una diminuzione clamorosa ma sono quasi 4 punti che ti perdi perdendo solo 10 giorni solo 10 giorni se ti perdi solo i 10 giorni migliori fai una performance comunque negativa ok poi abbiamo qua in alto a sinistra una performance dal 1990 al 2017 il totale è fantastico è investendo 10 mila dollari il ritorno è 13 mila 739 dollari che composto è 9 81 per cento se perdi solo un giorno comunque già diminuisce il giorno migliore se perdi i 5 giorni migliori già diminuisce diminuisce dell'1,6 per cento se ti perdi i 15 giorni migliori inizia a essere un terzo in meno eccetera 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 cioè se ti perdi solo 15 giorni tu guadagni 5 mila al posto di 13 mila in basso a destra dal 95 al 2014 abbiamo vabbè più o meno questa è la performance dal 95 al 2014 sì bene o male è un altro studio quindi abbiamo diversi studi fatti sui diversi anni shiftati in diverso modo che dicono chiaramente che il modo migliore per guadagnare sui mercati azionari è essere investiti perché ti basta perdere pochi giorni migliori e tu sei fregato ma in percentuale i giorni migliori sono veramente pochissimi e tu pensi di poter investire al giorno giusto comprando al minimo facendo i miracoli la statistica ce lo dice ok su 20 anni bene andiamo avanti questo è l'ultimo market time dal 1990 al 2019 quello più lungo in generale ha una performance 7,7 per cento medio annuo perdi il giorno migliore fa il 3,9 per cento medio anno perdi due giorni migliori fa lo 0,8 per cento medio anno questa è una ricerca di facset ok vi ha portato una due tre quattro cinque sei ricerche diverse che dicono tutti la stessa cosa ok se ti putta a casa o perdi i giorni cinque giorni migliori è un dramma questo vuol dire che magari tu delle seppi 500 hai solo cinque azioni e ti va bene e guadagni lo stesso ma in media la statistica dice questo ok se tu vuoi operare sui mercati finanziari puntando sulla fortuna perfetto sono affari tuoi ma quel punto gioca il super enalotto ok non investi in borsa mai comprare sui massimi ok il 2017 era sui massimi sembrava che tutto stesse per color largi era migrante michael burry una scatena di persone hanno detto è tutto sovra sovrapprezzato è impossibile che funzioni sembra il 1999 dovrei vendere ok dovrei vendere la realtà è che è continuato a salire vorrei non aver venduto vorrei poter tornare indietro ok questa è la psicologia di chi pensa che i massimi sul mercato azionale siano un problema no non sono un problema perché le azioni continuano a crescere il tetto delle azioni molto più alto di quello che noi riusciamo a immaginare possibilità it's about time in market not timing ok la performance ce l'hai stando a mercato non cercando di comprare al minimo perché nonostante tutti i deliri e le assurdità che succedono nel mondo comunque stare a mercato conviene stare investito conviene l'investimento azionale è un di lungo periodo costante nel tempo ed è chiaro io avrei voluto iniziare investire 20 anni fa ma venti anni fa avevo 11 anni quindi non ha senso nel momento in cui noi decidiamo di iniziare investire bisogna cercare di essere investiti il più possibile voglio comprare un'azione microsoft non sto ad aspettare che prima o poi scenderà perché io ho fatto delle analisi così la compro prima possibile in quale quantità con un altro discorso investimenti in azioni per l'uplo spiego chiaramente ok dal 1980 è successo il black monday la prima guerra del golfo il crash dei bond la crisi finanziaria asiatica il clamoroso collasso del fondo ltcm ltcm ed è fatto da scienziati eccetera la bolla delle dot com l'attacco delle torri gemelli la seconda guerra del golfo la crisi finanziaria globale con la recessione bella il collasso della leman bradel la metto dentro la metto dentro anche quello la greek bailout metto dentro anche quello us credit downgrade lo metto dentro nelle conseguenze del 2008 evitiamo di mettere di numero a caso brava brava brexit vabbè trump eletto presidente non credo sia un disastro e il copi oltre 10 11 12 grandi evenienze in 40 anni di storia che il mercato ha subito ci sono i crolli e fanno male ma se tu pensi di comprare al meglio durante i crolli sbagli di grosso la maggiore performance che puoi fare sui mercati azionari quindi possedendo azioni e essere investito motivi per vendere ce ne sono sempre motivi per aver paura per non comprare per aspettare ce ne sono sempre dal 2000 dal 1950 al 2014 abbiamo le guerre di corea le recessioni sputnik altre recensioni la baia dei porci la crisi dei missili cubani la guerra in vietnam crisi del petrolio un'altra recessione l'embargo opec un'altra recensione la libia bombardata l'87 in cui il mercato ha fatto il 22 per cento di crollo in un giorno solo l'89 con la collasso dell'unione sovietica la guerra in iraq le rivolte della di los angeles c'è tutto eppure mercato se ne frega il mercato da cosa hai fatto dalle azioni ed è chiaro è chiaro che non fare investimento azionale non vuol dire che per forza guadagnerai perché ci sono azioni che guadagnano e no è normale ok è per questo che esiste il buzz paradigma per cercare di filtrare evitare degli errori con il buzz paradigma noi abbiamo dei valori assoluti che ci permettono di avere la probabilità della nostra ok quindi su 20 aziende che hai in portafoglio con il buzz paradigma non è detto che tutti i 20 guadagnino col 30 per cento non è la soluzione per diventare ricchi subito ma probabilisticamente togli tutte quelle aziende che performano meno e nel lungo periodo avrai molto più successo ma per applicarlo devi mai aspettare il prezzo giusto perché il prezzo giusto non c'è il mercato sale molto più di quanto tu possa immaginare un altro esempio ragioni per vendere e anche questo è stato fatto da sì non mi ricordo il nome del blog a sense of commonwealth può essere si parte dal 2009 subito dopo la crisi ok ci sono stati un botto di problemi un botto di problemi c'è sempre stato il motivo per vendere sempre guardatevi stop al video stop al video leggerò per favore perché è facile chiamare che crollera tutto eccetera eccetera ma alla fine chi fa più soldi chi ha investito chi resta investito ok stop al video guardate un attimino non voglio commentarlo anche questo se no è troppo lungo bene passiamo alla seconda fase del video ti racconto motivi per cui non comprare delle azioni che si aveva un pie di oltre 30 un piedi oltre 30 è normalmente considerato un pie sopravvalutate quindi facebook era sopravvalutata bene tra l'altro è un pie che nella storia insomma ha raggiunto più o meno i massimi si l'ha ritoccato i massimi ottobre 2020 ma come valore di per sé il pie price to earn in ratio praticamente era i massimi nel luglio del 2017 non comprare facebook nel luglio del 2017 perché il pie sui massimi dicono sempre di investire nelle aziende con pie 10 facebook con pie 32 assurdo no bene nello stesso periodo di tempo esatto da luglio del 2017 facebook ha fatto il più 205 per cento più 205 per cento valeva 120 dollari adesso vale 331 adesso è un mese fa questa questa un mese fa due settimane fa questi screenshot non li ho aggiornati non mi frega niente apple settembre del 2020 un pie superiore 36 36 di pie 30 berkshire ha un piedi 10 36 di pie sempre molto alto poi sceso però insomma 36 di pie non è il momento giusto aspetto il momento giusto bene da allora apple cioè in settembre del 2020 ottobre del 2020 novembre del 2000 settembre del 2020 settembre del 2021 un anno e mezzo in un anno e mezzo in un anno e mezzo apple ha fatto più 57 per cento tra l'altro adesso è salita ancora è salita ancora è salita ancora io non ho aggiornato perché non voglio fare lo sborone no ma è salita del 68 non del 57 è il messaggio che quello che voglio lasciare è salita nel 50 per cento cioè da 110 dollari è arrivata a 180 e tutto si è perso perché no è sopravvaluta il pie alto ha raggiunto i massimi google pie di 28 luglio del 2017 da luglio del 2017 ha fatto il più 288 per cento valeva mille dollari adesso ne vale 3 mila 2008 valeva mille dollari adesso ne vale 3 mila e tu hai aspettato perché era sui massimi e ma google e google ma va bene ma certo è ovvio che ti parlo di singole aziende se vuoi guardare la media ti ho dato le statistiche prima ok e google tra l'altro ha un buzz paradigma di 8 e mezzo su 10 quindi va comprato non sto dando consigli di investimento tiro investimento attivo no è il passato non si investe in più in questo tipo di aziende è un pie di 35 33 34 35 a gennaio del 2009 parecchio tempo fa crisi è crisi nera siamo arrivati siamo dentro la recessione no 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 le azioni non vanno più bene vi ricordate quello che si diceva in quel tempi lì il capitalismo ha fallito l'alleman brothers è fallita non funziona più così lì è fila alla fine degli stati uniti parole dette da tutti tra l'altro il piede in un periodo in cui ha raggiunto uno dei piedi più alti della sua storia tiro bene da allora ha fatto il 9,7 per cento medio annuo un filino meno dell'SP 500 non è un'azienda meravigliosa va bene ma se l'avessi comprata avresti fatto un sacco di soldi l'avessi avresti fatto un sacco di soldi avresti fatto il più 263 per cento non l'hai comprata perché era in massimo invece c'era paura aspetto aspetto i minimi aspetta spera rolling 40 di pie rolling se non sbaglio fa disinfestazioni disinfestazioni è un'economia di vecchio stile un pie deve essere sotto i 20 nella vecchia economia il pie deve essere sotto i 20 se no non compro se no non compro mai no 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 settembre del 2015 rolling da allora ha fatto più 152 per cento con un ritorno medio anno del 15,5 per cento dal 2016 superiore all'SP 500 rolling ok edward life sciences gennaio del 2011 un pie di 45 aiuto non si compra quando il prezzo è sopra è sovracomprato come si dice è sopravvalutato non si compra fatto sta che da allora edward life sciences ha fatto il più 1271 per cento ha fatto un 25.3 per cento di rendimento medio annuo 10 per cento in più dell'SP 500 e tu aspetti ancora che arrivino minimi terza parte microsoft microsoft adesso sta avendo un ritracciamento questo è uno screenshot di settimana scorsa ok adesso si è un pochino ripresa ma ha fatto un crollo del 18,5 per cento io ho letto un sacco di analisi adesso è il momento di di comprare perché ha fatto il meno 18 per cento meno 18 per cento vuol dire quasi un quinto in meno è passata da 350 dollari a 280 dollari ha perso 70 dollari wow adesso è il momento di comprare giusto? io quando l'ho comprata è questo il grafico di quando l'ho comprata sì ha fatto più il 61 per cento tu stai discutendo adesso per comprarla sui minimi quando questi minimi li ha visti tre mesi fa a ottobre cosa compri sui minimi? che minimi sono? non ha senso altro esempio Tesla siamo a luglio del 2013 siamo sui massimi non compriamo subito aspettiamo il ritracciamento le proiezioni ai 10 anni i value investor pieno di persone che hanno valutato Tesla basta andare a vedere sul blog di Asva D'Amore ha valutato Tesla assolutamente come sopravvalutata non produceva macchine e io non ho investito in Tesla non sto dicendo che io sono mi io non ho investito in Tesla però tantissimi non hanno investito in Tesla perché non si può comprare sui massimi 303 dollari no sopravvalutata non si comprano mai le azioni sui massimi bene piccolo ritracciamento siamo ad agosto del 2000 era? del 2013 no del oddio che anno era vabbè mi porta poco quando era 303 dollari è sceso un pochettino poi 310 dollari piccolo ritracciamento potremmo forse comprare ma ci sembra faccio così guarda mi tolgo un attimo così si regolano le scritte piccolo ritracciamento forse potremmo forse comprare ma ci sembra troppo poco non è conveniente comprare così questo è un ritracciamento troppo relativamente basso no? non abbiamo comprato sui massimi a 310 non compreremo adesso 280 non ha senso bene primo grande aumento 100 dollari abbondanti di aumento del prezzo e noi siamo rimasti fuori a guardare perché non volevamo comprare sul massimi passano ancora qualche mese il picco massimo di aumento da quello che credevamo massimo importante è di 153 per cento cioè da 310 dollari è passata a 800 dollari ha fatto più 153 perciò possibile sì a 310 a 800 di massimo ok? ha fatto 500 e rotti dollari di aumento e tu pensavi fosse sui massimi anche considerando l'ultimo ritracciamento di Tesla il profitto perso è immenso più 88 per cento quasi doppio ultimo aggiornamento al 2 febbraio più 37 per cento quindi quando pensi di non poter comprare sui massimi stai generalmente sbagliando vabbè ultima parte anzi penultima parte 2015 Accenture inizia a essere interessante tocca ai massimi di sempre a 103 dollari 103 dollari wow appena scende la compra non si compra sui massimi guarda che crescita dal 2005 al 2015 in 10 anni wow fantastico Accenture ha dei buoni dati ha un basi paradigma ottimo perché non ha mai avuto basi paradigma ottimo mi fermo mi fermo qua ok aspetto che ritracci un po' e poi compro crollo immediato del meno 15% ecco lo sapevo era sopravvalutata ora è il momento di comprare azioni prese a 94,7 ho fatto l'affare della vita un momento prima erano 103 adesso 94 ottimo ho fatto l'affare da 94,7 dollari a 109 dollari in due mesi che fiuto che ho ho fatto più 15 dollari in due mesi wow sta ricrollando siamo a fine 2015 inizio 2016 oh mio dio ho ricrollato tutto di oltre il meno 15% tempi duri sono addirittura negativo adesso perché vale 93 dollari forse ho sbagliato forse dovevo chiudere la posizione non mi sembra stia avendo la stessa performance che avevo visto io no chiudo la posizione non voglio rischiare nessuno tra l'altro parla di Accenture ci sarà un motivo neanche Warren Buffett ce l'ha in portafoglio capito che discorsi sono quando sei in crisi prendi decisioni sbagliate inizi a guardare cosa fanno fuori inizi a cercare informazioni a esercitare il bias di conferma il mindset l'economia comportamentale si occuperà di te prendere decisioni sbagliate avrei paure non mi sembra stia avendo le stesse performance che avevo io tu stai guardando le performance a 10 anni dal 2005 al 2015 e in qualche mese ti aspetti le stesse performance questo è un problema un bias cognitivo un errore di percezione l'economia comportamentale chiudo la posizione non voglio rischiare altro errore comportamentale perché abbiamo una bassa capacità di capire cos'è il rischio anche se in qualche mese accenture ha ballato in realtà è un'ottima azione quindi il rischio che tu pensi di star correndo è molto minore nessuno parla di accenture altro bias cognitivo economia comportamentale che circa che descrive il fatto che gli esseri romani sono più a loro agio quando gli altri fanno delle cose a cui loro possono associarsi fear of missing out se qualcuno fa qualcosa è meglio fare la stessa cosa di qualcuno perché se tutti lo fanno vuol dire che hanno ragione ok ultimo bias cognitivo economia comportamentale neanche Buffett ce l'ha in portafoglio bias di autorità se l'autorità in quel settore fa qualcosa allora la faccio anche io se non la fa allora non conviene magari non ha accenture perché ha litigato con il dirigente magari non ha accenture perché sua figlia odia accenture ma che ne sai e quindi abbiamo chiuso la nostra posizione in accenture perdendo soldi rimango di sasso da allora continuo a crescere era 93 dollari qua adesso è 128 dollari mi sono perso un guadagno del 30-40% buono in quasi due anni voglio rientrare ma ormai su massimi è 128 dollari è meglio aspettare cioè mi sono perso sono un fesso ho tutto questo rimorso per un guadagno che non ho fatto adesso voglio rimediare bias cognitivo economia comportamentale ma continuo a crescere ancora ancora pensavo fosse sui massimi a 128 dopo pochi mesi mi ritrovo a 161 non ho comprato sui massimi a 128 dopo pochi mesi mi ritrovo a 161 continuo a crescere con questione sprecata quanti rimpianti febbraio 2018 flash crash il 5 febbraio alta volatilità e panico generale compro a 150 dollari 53 dollari in più del mio primo acquisto compro sul ritracciamento e penso di aver fatto l'affare intanto hai perso 53 dollari di crescita ma tu compri sul ritracciamento compri sul minimo niente Accenture fa schifo da allora tutto il 2018 è stato uno schifo il 2018 è stato uno schifo per molte azioni l'ho tenuta per quasi un anno e mi sono venuto di 17 infarti per cosa? ansia paura panico per essere poi di nuovo in perdita vedi 145 dollari l'ho comprata a 150 chiudo la posizione non conviene e inizia a crescere ti pareva io non ci capisco più niente i mercati sono truccati sono troppo efficienti per farci soldi inizio a studiare il value investing a usare formule complesse a fare previsioni studi approfonditi su ogni azione quindi prendo Accenture faccio una previsione a 10 anni estrapolo il fair value inizio ad approfondire il discounted cash flow il dividend cash flow model e inizio a fare analisi sul modello di business a cercare il fossato a cercare i concorrenti a vedere se mi conviene se ha un vantaggio competitivo sul mercato fare tutta una serie di calcoli con formule complesse tutte cose che il mondo là fuori fa semplicemente perché non hanno una risposta prezzo attuale 213 dollari previsioni di crescita di Accenture nel settore consulenze del 7,5% all'anno per i prossimi 5 anni cioè l'azienda ora dovrebbe valere 255 dollari chiedo scusa dollari non percentuale dollari discounted cash flow value investing quindi dovrei comprare adesso vale 213 ho dato la valutazione a 255 dovrei comprare ma è sui massimi aspetto un ritracciamento anche se ci sono 40 dollari di differenza comprare sui massimi non posso marzo 2020 evento catastrofico pandemia lockdown il mondo inizia a bloccarsi i mercati crollano come mai prima d'ora panico e preoccupazione disoccupazione ormai non è più una questione finanziaria l'intera economia rischia di collassare no? bene dopo quasi un mese l'SP500 sembra un po' stabilizzarsi così come Accenture abbiamo sulle barre Accenture e la linea arancione è l'SP500 compro dopo un crollo a inizio pandemia del 15 18% in pochi giorni in cui tutti hanno iniziato ad avere il panico c'è un po' una settimana di stabilità così come Accenture che faccio? compro il crollo continua questa era la stabilità che vedevi questa stabilità qui e questa qua in un mese i mercati fanno il meno 30% il più veloce crollo della storia e che cacchio il crollo continua il peggior crollo degli ultimi 150 anni le catene di approvvigionamento sono al collasso l'economia mondiale è bloccata le stime indicano ci sarà un crollo del prodotto interno lordo del meno 10% sarà crisi la disoccupazione schizza le stelle stelle non stesse panico paura una situazione mai vista prima non è tempo di comprare azioni devo comprare beni rifugio oro o cripto insomma vendo Accenture è finita l'epoca della crescita azionaria in soli 73 giorni Accenture torna ai livelli pre-pandemia e io bestemmio ma non posso comprare è sui massimi questa è la mia faccia perpressa alla fine non posso comprare sui massimi infatti ha continuato a crescere all'infinito Accenture tocca nuovi massimi di sempre ma d'altronde come faccio comprare la Fed pompa a pieno regime gli Stati Uniti si stanno indebitando come mai prima d'ora i lockdown sono diffusi gente famosa dice che crollerà Jeremy Bentham Michael Burry Ray Dalio eccetera eccetera preferisco interessarmi a Dogecoin perché leggo articoli di giornale in cui gente fa i milioni da allora fa il più 50% Accenture nonostante il recente ritracciamento cioè fa il più 50% nonostante sia adesso crollata del 20% di recente gennaio del 2022 ok ultimo blocco sei pronto? qua parliamo di mindset di investimenti discrezionali di trading discrezionali di volontà di scegliere al momento ciò che reputo giusto questo è il prezzo eh e poi ci sono dei commenti i prezzi salgono interessante i prezzi continuano a salire non posso non posso comprare ora aspetto ovviamente non si compra mai su massimi piccolo ritracciamento bene al momento compro sono giorni mesi settimane che sto studiando un'azione al minimo ritracciamento e non vedo l'ora di entrare a mercato vedono tanti che ne parlano su youtube su articoli di giornale eccetera eccetera crolla inizia a crollare sfrutto la correzione per comprare che a fare corregge ancora fantastico raddoppio perché compro a sconto no? questo è il nostro obiettivo comprare a sconto mi posso far vedere continuo a crollare beh iniziano a venirmi dei dubbi sono pieno di dubbi cerco risposte online forse riduco la posizione crolla ancora non posso fare nient'altro meglio aspettare il prossimo rimbalzo continuo a crollare cosa diavolo succede? è la fine degli Stati Uniti come li conoscevamo è la fine del capitalismo per fortuna ho venduto tutto ai minimi 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 sale un po' tanto poi riscende scende appunto so prevedere risale ancora cosa succede? oddio sale ancora sale ancora davvero? adesso sali? davvero? mi prendi in giro? sale ancora chissà quanti ci stanno guadagnando e io no sale ancora ecco lo sapevo dovevo rimanere fermo non vendere qua qua ah qua e devo rimanere fermo sale ancora tutti guadagnano vedo che tutti guadagnano basta ora compro e recupero le perdite fatto sta che tu hai perso soldi hai perso soldi guardandoti intorno hai perso soldi provando a comprare sempre al minimo hai perso soldi facendoti influenzare dai momenti hai perso soldi effettuando scelte sbagliate eccetera eccetera spero di averti dimostrato sia con le statistiche sia con esempi di economia comportamentale quanto aspettare il momento giusto per comprare le azioni la maggior parte delle volte non ha senso ci sono delle situazioni fuori da questa logica quando un'azione vale mille di pie e tutti ne pa- GameStop non comprerei mai GameStop non rispetto al Buzz Paradigma ma se va a mille di pie magari non è il momento giusto di comprare perfetto piccole, rarissime occasioni la maggior parte delle volte ciò che conviene è mettersela in pancia subito con un'ottima strategia di portafoglio per approfondire investimenti in azioni per lupi e scommesse azioni ad alto potenziale c'è febbrazionaria.com link in descrizione ho ciò che scade il 9 febbraio spero che questo video sul market timing finalmente smonti il mito di dover comprare al minimo e che le azioni non si comprano su massimo che le azioni non si comprano su massimo ciao e al prossimo video